La prima repubblica Deve conferire con la dottoressa Ho visto che era femmina, ha detto la segretaria Una buonuscita di 35.000 euro Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando Io sì Mi dite un posto di merda, ma così di merda Avanti su, un cesso voglio Io non lo lascio il posto, non lo lascio La prima repubblica